e da dove arrivano da molto loccano, avremo nell'ordine In-Fan-Chen dalla Cina e faccio prima una panoramica mondiale in Chiangà dalla Corea del Sud Churchill Moon, sempre dalla Corea del Sud e Siman Lu dalla Cina Diego Moccia Buona serata, buon ascolto e soprattutto in buon gruppo ai ragazzi Buonasera a tutti, io canterò Come Scoglio, da l'opera con le fatture Buona serata, buona serata, buona serata 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.